Signore e signori, la compagnia Teatro Popolare Vi hanno tenuto stasera compagnia Vincenzo Mutu, Alberto Polistena Lilla Nunzia Cuccio Crea Spazzino Piero Monterosso L'imperata Nunzia Ambrosio Professor Barrista Nileo Turco Rosa Saveria Migliazza Michele Paolo Cusa Luca Reiu, Carmelo Genovese Grazie Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha voluti qua questa sera Sperando che l'opera sia stata di vostro gradimento Vi diamo appuntamento al prossimo anno, qualora lo vorrete Vi ricordiamo che per seguire tutti gli appuntamenti della compagnia Lo potrete fare sul sito internet www.compagniateatropopolare.com Ci sarà qualche video, qualche foto, tutti gli interventi da tutta la provincia E in tutte le piazze dove andremo lasciamo un piccolo ricordo Facciamo una foto, gentilmente le luci dall'altro lato E da domani la potrete vedere sul sito internet Va bene? Allora un sorrisino A domani www.compagniateatropopolare.com Grazie a tutti e buonanotte Grazie